buonasera allora io sono sicuro che molti di voi sono amareggiati perché è evidente se uno immagina sempre che il suo partito o il partito in cui ripone le speranze va al governo si immagina un governo fatto da tutte le persone del suo partito il governo era nato come un governo di unità nazionale questo significa che partecipavano tutti quindi bisognava essere psicologicamente pronti ad avere persone del movimento 5 stelle ad avere persone di forza italia avere persone del partito democratico persone di leu anche se aveva detto che in teoria non doveva partecipare se c'eravamo noi ma pazienza più le diciamo persone di fiducia del presidente del consiglio incaricato vale a dire di draghi vale a dire i tecnici così come io dico sempre che se uno potesse scegliere il 51 per cento delle persone al mondo ma con la bacchetta magica dicendo tu sì tu no tu sì tu no tu sì tu no all'interno del 51 per cento che tu hai scelto c'è sicuramente qualcuno che non ti piace se lo potessi scegliere tu è cioè tu in questo momento voi che 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 già già mille cento che mi state guardando ciascuno di voi se poteste voi scegliere con la bacchetta magica il 51 per cento delle persone sulla terra nella nelle persone che avete scelto voi troverete delle persone che non vi piacciono immaginate quando sceglie un altro qui abbiamo un altro che sceglie e figurarsi se all'interno delle sue scelte si potevano trovare delle persone che che vi piacevano due fra tutti io lo so che stiamo parlando di due nomi che saltano immediatamente agli occhi sono la morgese e speranza attenzione parlo quando dico la morgese speranza parlo di due persone di cui io sinceramente non ho né la competenza né il il modo per poter dire ah sì sì io ho visto che lavorano li odio non li sopporto farei perché come avete capito o come mi avete seguito io ho contrastato con tutte le mie forze il governo conte e nello specifico avevo due obiettivi che vedevo che stavano facendo il male dell'italia ed erano con te stesso giuseppi una persona pessima pessima e l'incompetente gualtieri quindi io scusate quando giravano pochi pochi minuti prima le le co perché tu sai i nomi degli altri no non sai i nomi degli altri quando giravano le le liste dove vedevo ancora dentro gualtieri mi già mi veniva male quindi io di mio se devo guardare il mio piccolo è ovvio che sono contento perché non vedo non c'è più conte non c'è più gualtieri figurarsi franco con con daniele franco io ho lavorato quando si è fatta la prima legge di bilancio del governo giallo verde metteva molto i bastoni fra le ruote a il movimento 5 stelle ed era molto più tollerante con le nostre proposte di legge cosa che aveva dato origine a un certo tipo di frizione se la ricorderà bene se le ricorderà bene la la viceministra ex suppongo non lo so magari magari no la viceministra laura castelli che seguiva per il movimento 5 stelle quella quella situazione e quindi c'è per me avere a che fare con con franco che in ogni caso è un amico di draghi quindi è una sua diretta emanazione rispetto a quell'incompetente di gualtieri è molto molto meglio no so che invece per chi segue i temi dell'immigrazione per chi segue i temi della sanità e così questo tipo trovarsi la continuità con la morgese e speranza non è una bella notizia immagino e mi immagino purtroppo che simmetricamente la cosa sarà vista molto molto male da tutte le parti voi vi immaginate il movimento 5 stelle con brunetta non so cioè giusto perché almeno capiate di che cosa parliamo no cioè nel senso mai al governo con questo o quell'altro e il governo con con brunetta ma guardate ci sono anche degli altri dettagli che devono essere tenuti presenti uno è franco ripeto che non stava esattamente simpatico al movimento 5 stelle ma insomma immaginate il sottosegretario a presidenza del consiglio che è un uomo fondamentale perché in una maniera o nell'altra tiene il la macchina del del consiglio dei ministri la fa funzionare si andava da fraccaro che era considerato una persona assolutamente inamovibile all'interno del movimento 5 stelle si passa a garofoli che è quello che è stato fatto di mettere dal movimento 5 stelle perché vi ricordate che garofoli era il capo di gabinetto di tria e fu fatto di mettere a viva forza dal movimento 5 stelle che gli addebitarono dei delle irregolarità relative a della gestione dei soldi con la crociosa neanche mi ricordo comunque che che tipo di tipo scandalo che poi ovviamente andò a sgonfiarsi inventare ma fatto sta che fu fatto di mettere per quello quindi immaginate e aggiungo anche perché poi ci sono sempre le cose incrociate aggiungo anche sempre per il movimento 5 stelle ai loro che il ministero sviluppo economico era assolutamente considerato da loro totalmente cruciale perché l'hanno tenuto nel primo governo dove c'era di maio nel secondo dove c'era patuanelli ed era diciamo il centro il loro principale centro di potere adesso andrà alla lega con 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 giancarlo con 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 giorgetti quindi nessuno credo sia contento all'interno dei partiti questo potenzialmente potrebbe essere da una parte si verrebbe da dire bene perché se nessuno è contento allora vuol dire che va bene c'è anche chi tende a a posizionare le cose in questa maniera dall'altra parte potrebbe essere oggettivamente un fattore di debolezza vediamo perché in questo momento in parlamento i partiti ci sono che cosa si può fare cosa si poteva fare niente si poteva fare qualcosa di differente si poteva andare all'opposizione perché di qua di là ma non sarebbe stato praticabile ve l'ho spiegato in tutte le maniere non sarebbe stato praticabile ex ante andare all'opposizione perché agli occhi dell'opinione pubblica dopo lo spettacolo in verecondo dato da tutti gli altri a quel punto si 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 fa poca poco 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 distingo quando la gente poi arriva nel palazzo con 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 i forconi non è che tu potevi dire ah io ero l'opposizione io ero la maggioranza così così tipo li beccano tutti lo spettacolo è stato in verecondo cioè il governo conte è stato il bar di guerre stellari è stato il punto forse più basso rispetto che che la politica ha potuto offrire e a quel punto poi purtroppo arriva la purga cioè nel momento stesso in cui tu dai un'immagine di questo tipo con un governo così ignobile come e con una gestione così ignobile come stata quella del governo conte e poi arriva la purga e questa è la purga arriva uno che è stimato da tutti che un giro per il mondo e penso anche per gli avversari perché ho sentito persino di battista per dire andiamo agli estremi dire che stima draghi è perché giustamente poi il suo lavoro quando ha giocato con la casacca degli altri motivo per cui io dico se arriva a giocare con la mia per me va bene è stato da tutti considerato bravo quindi abbiamo una persona che è stimato da tutti che adesso ha messo assieme una squadra che scontenta tutti da parte nostra molto banalmente è ovvio che come lega tu registri un miglioramento verticale perché da nulla in mano agli scappati di casa ci troviamo sviluppo economico turismo con portafoglio quindi a cui verrà dato il portafoglio è una cosa che era carissima a salvini e secondo me è molto giusto secondo me anche molto nobile aver puntato diciamo fra le tante richieste quello di insistere per avere quel tipo di ministero vale a dire ministero della disabilità uno che era stato diciamo costruito col nostro governo era stato affidato ad alessandro locatelli che adesso è capace e sta ribaltando il settore in regione in regione lombardia alessandro locatelli è la mia sorella cioè a como eravamo quando quando ci siamo candidati per il consiglio comunale il il come si chiama il santino per dire chi votare era borghi locatelli ecco quindi il fatto che sia stata lei la prima no avere il ministero della disabilità per me ovviamente stato una grande soddisfazione durata purtroppo pochissimo però adesso sta facendo bene in regione lombardia e il fatto che il conto ovviamente aveva depennato quel ministero lì immediatamente il fatto che sia stato rimesso dietro una delle specifiche richieste di salvini che è stata che è stata accolta è una cosa che mi fa molto piacere perché le decine di migliaia forse centinaia di migliaia di persone disabili devono avere delle risposte secondo me fino adesso lo stato gliene ha date molto molto poche ecco io molto banalmente io come tanti sottovalutiamo il problema perché siamo fortunati mi è bastato avere l'infortunio quest'estate quando mi sono distrutto la gamba per capire cosa cosa sono i problemi ecco troppo facile parlare se non se non ci si rende conto è tu prova a non poter camminare magari per per basta come come nel mio caso ecco basta basta due settimane e la priorità l'ordine delle priorità ti ti viene ti rigira così come nell'ordine delle priorità noi sappiamo che le caratteristiche le categorie che in questo momento stanno soffrendo di più sono le piccole e medie imprese ed è il settore del turismo quindi abbiamo la necessità e il dovere morale di dare una risposta a queste categorie il fatto di avere due persone nostre che sono quelle con maggiore esperienza sia di 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 governo e di governo no però diciamo politica sì perché Giorgetti ha sei legislature alle spalle Garavaglia è quello di noi che ha più esperienza di governo perché è stato al di di avventure in commissione bilancio e sottosegretario all'economia nel 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 governo gialloverde però soprattutto lui è stato assessore all'economia per regione lombardia per per tanto tempo quindi diciamo che sono quelli che sicuramente abbiamo con maggior esperienza diciamo così e quindi per non non possiamo permetterci di sbagliare faremo il possibile per cercare di portare quanto più sollievo alle categorie che sono totalmente distrutte. Altro passaggio ovviamente riguarderà sottosegretari e viceministri perché sapete benissimo che il ministro fa da l'indirizzo generale ma il sottosegretario e il viceministro spesso e volentieri sono quelli con le deleghe che effettivamente portano avanti il tutto io sono convinto che lì ci saranno dei nomi che vi faranno più piacere rispetto a quelli che in una maniera o nell'altra avete dovuto vedere purtroppo perché appartengono agli altri partiti così come però preparatevi perché a sua volta ci saranno nomi di altri partiti che non vi piaceranno che andranno a fare viceministri e sottosegretari questo rientra nella caratteristica di questo governo ma vedrete che per la lega faremo il possibile per continuare a mantenere lo standard molto elevato. Io anche in questo caso come vi ho detto non sono particolarmente non è il mio mestiere però faremo di tutto per avere dei nomi di alto livello e sono sicuro che li vedrete a breve. detto questo si poteva fare diversamente? No, ripeto, no. In quel momento, in quella situazione ovvio che il nostro interesse principale era le elezioni ma le elezioni mi pare evidente che non venivano date e nello specifico l'alternativa sarebbe stata un governo come questo, come questo, senza Draghi ma con magari un altro personaggio e con una maggioranza estesa a Forza Italia e quindi con con noi fuori. E tu dici noi fuori, ah beh meglio, meglio porsi, ma meglio porsi cosa? Meglio porsi cosa? Qui c'è un uno spazio molto breve di tempo perché penso che lo spazio che avrà questo governo non sarà lunghissimo. C'è uno spazio molto breve di tempo e bisogna a scoperchiare le porcherie fatte da l'incompetente prima con tutti i soldi che rimanevano sotto il tappeto e metterci uno che era ex ragioniere generale dello Stato, secondo me non ci mette molto a capire che sotto il tappeto c'è qualcosina, che quel cumulo tondo che tiene sul tappeto non è un'enorme tartaruga messa lì, ma è purtroppo qualcosa di più maleodorante. E quindi che sia lui cortesemente ad aprirlo, perché quando e se arriveremo noi al governo con un governo politico mi piacerebbe cortesemente trovare casa pulita. Per cui quella cosa lì deve essere scoperchiata. I ristori devono essere dati in modo minimamente decente alle imprese e più di presidiarla noi direttamente con la nostra persona io non so che cosa fare, cioè l'alternativa era sì io stavo all'opposizione e sparavo addosso a chi? A un incompetente che stava lì dal punto di vista della soddisfazione politica una figata, certo, ma figurati molto meglio. Ti metti lì a criminali, cretini, incompetenti e cose di questo tipo, però intanto la gente muore, però intanto le imprese chiudono e quindi io l'unica cosa che si poteva fare è in quest'ottica cercare di provare a far andare un pochettino meglio, un pochettino meglio le cose. Stessa roba per il settore del turismo perché è un po' comodo continuare a dire disgraziati state facendo morire il turismo, disgraziati state chiudendo i ristoranti, disgraziati state chiudendo gli alberghi, state chiudendo gli impianti di risalita e poi nel momento stesso in cui c'è la possibilità, perché l'alternativa migliore non ce la davano, vale a dire le elezioni, di poter mettere una persona tua rispetto a il primo che passa per strada, oggettivamente mi sembra che non si potesse fare alternativa. Ma non avrebbero capito la gente, cioè questi stessi noi la facciamo comoda perché dal punto vista siamo degli idealisti, io non ho problemi perché sono benestante, tanti altri di voi magari hanno una vita più o meno sfortunata, ma io sono convinto che tanta gente dei nostri elettori, in questo momento sta vivendo dei drammi, negozi, imprese, piccole società, studi professionali, ma anche solo gli stagionali, i balneari, i camerieri, gli attori, gli artisti, c'è un disastro, c'è un disastro che deve essere sistemato, quindi per carità è comodo, è facile, tanto lo stipendio me lo danno lo stesso, vedete che mi diverto di più all'opposizione, io mi metto lì e gli dico tutto quello che penso, è bellissimo, è molto più divertente, molto più divertente, ma che cosa porta a casa? Cioè bisogna dare una possibilità, un tentativo per cercare di venire fuori da sto pantano, quindi se noi ci fossimo chiamati fuori da questo tentativo vi posso assicurare che qualcuno sarebbe stato soddisfatto e io intendiamoci, io lo so, cioè io lo so che c'è gente che mi segue da tanto tempo che avrebbe voluto vedere, no non me ne frega niente, lasciali affondare tutti, ma continua a sputtargli in faccia, sono forse più vicini al mio istinto che di altri, credete che non ci siano persone che non gradisco, è ovvio, io avevo di fronte quelle due là e quindi il fatto di non vederle mi rende tranquillo, ma non è il mio governo ideale, è evidente, quindi io capisco, capisco tutto, capisco chi invece avrebbe voluto dire o arriva il mio governo dei sogni oppure stai lì e copri gli insulti fino a domani, è l'unica cosa che avrei tollerato. Non ho una risposta da darvi, si devono fare delle scelte e in questo caso mi sembrava chiaro che non ci sarebbe stata una scelta possibile, cioè questa è la famosa, ho cercato di dirlo, è una decisione che probabilmente sarà stata una decisione sbagliata, ma è una decisione inevitabile, perché in quel momento se noi avessimo detto al nome di Draghi, dopo lo spettacolo che c'è stato, no, no a priori, noi votiamo contro e basta, non avremmo avuto le elezioni e avremmo avuto tantissima gente che in questo momento sta soffrendo che non avrebbe capito, non avrebbe capito. Quindi io posso soltanto chiedervi pazienza, posso soltanto dirvi che capisco perfettamente che non è il vostro governo, non vi sto chiedendo di applaudire, non lo faremo noi in Parlamento, un applauso a scena aperta per chi, per cosa, denuncerò tutto quello che vedo se vedo delle porcherie che vengono fatte, credo che sia migliore del passato, sì, credo che sia migliore del passato, cioè il disastro di Giuseppe Conte con Casalino che mandava le veline, le bozze della legge di bilancio che girava un degrado che secondo me non aveva pari, cioè buona fede alla giustizia, no. Quindi credo che sia migliore, sì, credo che sia il meglio, no, no, non è chiaramente il mio governo ideale, non credo che sia il governo ideale di nessuno e capisco tutti quelli che sono arrabbiati, disgustati dal vedere certi nomi e cose di questo tipo. Io continuerò come sempre a informarvi nel dettaglio, vi dico come la penso, vi dico quando ci sono delle decisioni che avrebbero potuto essere differenti, in questo caso credo che sia stata inevitabile per dei motivi che penso che siano chiavi. cercheremo di fare il possibile, adesso vedremo con viceministri e sottosegretari come si completterà la squadra e dove ci siamo noi cercheremo di fare bene, dove ci sono gli altri cercheremo di controllare il più possibile. Vi ringrazio, grazie per la pazienza, grazie per la pazienza, davvero, perché non pensate che non capisca. Capisco, capisco come. Grazie davvero.